Dimmi Luca Visto che la presentazione è così Sì Vuoi che ti faccia un'introduzione? Dai! Sì? Ti va piacere? Venga, venga maestro No, no, no Ok, ok, ok Sì, non sono un grande rettore perché capisci Oratore Sì, la prego, mi faccia un'introduzione 5 a 2 Pagani La графica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.